Che dici ce ne facciamo subito una eh Titti? Ma si facciamoci di carotene! Evviva la negritudine! Ciao a tutti ragazzi sono Ashura e questa è una nuova puntata di Ashura's Corner! Oggi vi mostrerò la seconda parte delle action figure delle Girls Memories uscite fino adesso. Sto parlando ovviamente della serie di Sailor Moon. Oggi vi mostrerò nello specifico Sailor Pluto e Sailor Cibiusa. Sicuramente Sailor Pluto e Sailor Cibiusa sono gli opposti perché la prima è amata da tutti, è quasi diventata un'icona sexy erotica ovviamente, e la seconda è abbastanza odiata da tre quarti dei fan di Sailor Moon, almeno quelli italiani che sono stati abituati alla serie anni 90 della merda. Sailor Pluto sicuramente è una delle serie più sfigate, e la Sailor Moon a Gioian, io non ho mai vista farle un sorriso, e ha il compito di sorvegliare la porta del tempo. Ora, Queen Serenity, cara mia, ma sei proprio una stronza di prima categoria, poi sta povera Christa sta tutto il tempo in piedi, non ha manco diritto a una seggiola, con tutti i soldi che hai che ti sei fatta il castello, il castello, il palazzo di cristallo, potevi regalarla almeno una sede, e che caff! Invece la seconda sede orcipiusa è poverina, una povera sfigatona che ha avuto, diciamo, il feedback negativo, anzi quella che ha avuto più mazzate dalla serie degli anni 90 della mediaset, in quanto questa serie, anzi quella serie, era stata descritta, etichettata, come una rompipalle scesa sulla terra con il fine di scassare tutti i giorni con i picchi, lamenti o altro. Ma effettivamente, Sido Sibiusan non è così, diamo la verità, diciamo la verità, Sido Sibiusan nel manga è tutto tranne che è una peste e libertà. Ovviamente una ragazza, ci parla di una bambina, non ti puoi aspettare un discorso filosofico alla Pluto che ti fa scendere l'altra leggi notte, però non era così fastidiosa come lo era negli anni 90. E qui mi parte l'hashtag salviamo Sido Sibiusa. Sero Pluto e Sido Sibiusa fanno parte della seconda ondata delle Ghost Memories, le prime sono state le Inner più Moon e successivamente usciranno Urano, Nettuno e Satur. Sono molto economiche, come ho già detto nel video precedente in merito alle Ghost Memories, se non l'avete visto vi consiglio di vederlo, e sono state acquistate da Biggie Japan al modico prezzo di 18€ compreso le spese di spedizione, quindi se volete potete adesso ora trovarle anche sui bei a prezzi molto molto convenienti, io ve le consiglio perché sono realmente molto belle. Non si è capito, non sono fan di solo un muro, no? Queste sono le scatole delle nostre action figure, come potete vedere sono molto simili, anzi sono identiche alle scatole delle altre Ghost Memories, cambia solo ovviamente la protagonista. Come potete vedere questa è la scatola di Pluto, mentre questa è quella di Cibiusa. Una volta tolto dalla scatola questo sarà il nostro risultato. Cibiusa risulta già montato, ovviamente è molto bassa, quindi era inutile spezzettarla, mentre la nostra Pluto è fatta abbastanza a pezzettini. Una volta assemblata questo sarà il risultato finale. Ecco la nostra Cibiusa in tutta la sua bellezza. Ovviamente c'è sempre la base con il colore della nostra Cibiusa, in questo caso è rosa. E poi c'è la nostra Pluto. Pluto è eccezionale, guardatela quanto è figa. Io sono rimasto abbastanza estasiato da questa action figure, da questa riproduzione, questa action figure, perché la trovo davvero ben fatta. È eccezionale. E anche i colori dei capelli sono fatti benissimo. Guardate le varie sfumature. Sono venute alla perfezione. Ovviamente messe vicino, cioè un divario d'altezza allucinante. E un dettaglio che mi ha realmente fatto che pare da ridere è il dito di Cibiusa. Ragazzi, è più lungo della mano. È un indice eccezionale che è più lungo della mano. E questo mi ha letteralmente il rabbrevidito. Se dovessi dare un voto oggettivo a Cibiusa è un figo sicuramente si beccherebbero un bel nuovo. Le pose sono veramente fighe. Ci sono pochissimi errori per quanto riguarda la sbavatura o i colori e sia Pluto che Cibiusa sono realmente stupende. Anche questo nuovo unboxing in salsa si aveva raggiunto al termine. Ricordò sempre di laudare sempre le Sielo, di venerarle come se fossero delle descese in terra. E nel frattempo vi ricordo che potete mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale e condividerlo dovunque volete. Per ora è tutto, ma solo per ora. Asciutto vi ringrazio e ci rivediamo al prossimo video.